Ancora nessun contributo dalla Regione Puglia per l'organizzazione delle prossime festività di Natale e Capodanno a Lecce. E così, mentre a Bari per la notte di San Silvestro la Regione ci pensa generosamente per tempo, Lecce e gli altri capoluoghi restano appesi alla speranza. A suonare il campanello d'allarme il consigliere regionale Paolo Pagliaro, condividendo tra l'altro l'amarezza già espressa dal sindaco Adriana Polibortone e invocando uguale trattamento per tutti i capoluoghi di Regione. A replicare l'assessore regionale Alessandro Delinoci, La Regione Puglia dice attualmente non dispone di fondi per queste attività perché da due anni il Governo centrale non sblocca le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione che spettano alla Puglia e non si riesce a sostenere non il Comune di Lecce ma l'intero settore della cultura, del turismo e del cinema. Falso controbatte il consigliere Pagliaro che parla di baricentrismo evidente. Il Capodanno in Piazza Barese, trasmesso in diretta TV con l'autocontributo della Regione, dice è un esempio lampante che i soldi si trovano anche senza bandi quando c'è da mettere in luce Bari, sempre e solo Bari, mentre per gli altri capoluoghi, in particolare Salentini, non c'è un euro. L'elenco di manifestazioni, iniziative e politiche squilibrate a tutto vantaggio di Bari è lungo in calza. Ferrovie sgangherate, infrastrutture carenti e antiquate, come la Quattro Corsie e Lecce Taranto che la Regione ritiene superflua, e poi agricoltura in ginocchio di cui ci si accorge solo ora che è arrivata la Xilella alle porte di Bari. Aeroporto del Salento con i suoi pochi voli trattato come cenerentola, sanità pubblica smantellata, case popolari che cadono a pezzi, consorsi e asi da riformare, anni di ritardo nel bando per la gestione delle terme di Santa Cesarea, e sottanto ancora a cui l'assessore dell'Inoci non ha mai risposto. Ora all'improvviso si sveglia e insorge, continua Pagliaro, accade evidentemente perché abbiamo toccato un nervo scoperto e sbugiardato politiche regionali fallimentari. E qui, continua Pagliaro, veniamo alla colossale mistificazione dell'assessore a proposito dei fondi di coesione che vengono tirati in ballo, e strumentalizzati puntando il dito contro il governo Meloni. Le feste di piazza, continua Pagliaro, gli eventi e le luminarie non si pagano con quelle risorse che vanno impiegate invece per gli investimenti e lo sviluppo del territorio, cosa che il governo nazionale ha ribadito a più riprese, bacchettando la regione. E dell'Inoci lo sa bene, ma mente sapendo di mentire in calza. Lo avremmo voluto vicino il Consiglio regionale in tante nostre battaglie per il Salento, ma è sempre stato latitante, adesso invece scatta, ma non in difesa di Lecce. Sappiamo tutti che quando c'è la volontà politica le cose si fanno, conclude, si tratta solo di stabilire quando conviene, il vostro impegno sembra emergere solo, quando serve a costruire consenso. Vorrei ricordare all'assessore, dice in chiusura, che la nostra legge sulla fondazione Tito Schipa, approvata a luglio 2022, è ancora ferma nonostante i fondi stanziati, mentre la fondazione Petruzzelli di Bari risucchia milioni di euro.